Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GeneticDinea eccoci qua con il secondo appuntamento di Need for Speed allora dobbiamo raggiungere il luogo indicato sulla mappa quindi andiamo con la nostra Subaru a incontra... sì però se non mi mettete questi messaggi intanto che sto guidando vi fate anche un favore vi ricordo che siamo su PC questa è la versione appunto per PC uscita un po' dopo contromano ok, ho dei punti da pulita allora devo farci su un po' la mano come dicevo nello scorso gameplay perché è comunque un po' anche che non che non prendo in mano un gioco di guida a parte che ho rispolverato il mio G27 con URC ah ho tolto la musica ragazzi perché sennò sì ho capito ma porca di quella il tuo telefono usa il tuo telefono sì ma non potete darmi questi messaggi intanto che sto guidando cazzo guarda questi uno sta guidando in contromano poi e mi date questi cazzi di messaggi qua non so se è voluto questo ma io sto seguendo il il GPS però oh 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 fermano mamma mia ho capito ma che cazzo di strada mi stai piacendo fare GPS guarda un po' che bordella aspetta un attimo che devo fare un piccolo settaggio un attimo ok ero dimenticato di far patire il che palle incontra Amy al garage segui il percorso sì ho capito ma l'hai già detto entra nel garage ok mi hai fatto fare un danno pazzesco il tuning ti stressa calma guida ad alto livello e lascia i meccanici va bene guarda la mia bambolina ehi guarda che ti sento ok non toccare la mia playlist o sei morto ehi oh ciao ciao travis mi ha detto che sai mettere a punto un'auto perciò benvenuto grazie ok una sola regola usa gli attrezzi che vuoi tranquillo ma rimettili a posto quando hai finito a parte questo a tua disposizione ecco la mia ultima ossessione vieni niente male come ero ucciso eh amico bello questa sarà la mia prossima opera d'arte me lo sento voglio farla vedere Anna Kaysan prima che lui lasci la città l'approvazione di un artista come lui darebbe un bel prestigio a questa officina giusto ok beh ho finito e adesso esco forse dopo raggiungo Spike oh travis ha spostato le auto così ora c'è spazio per te e ti conviene prenderlo prima che rimpiazzi quella con molta altra roba è un buon momento per mettere a fuoco le idee sai pensare all'auto seguire la tua visione wow parlo proprio come travis ok è tardi vado divertiti e ci vediamo in giro ok oh e metti gli attrezzi a posto grande ci vediamo questa mi fa paura questa mi fa paura cioè veramente allora adesso dobbiamo contenuti di prestazioni disponibili oh va bene porca miseria il tuo garage benvenuto alla tua nuova casa nel garage puoi riscattare i ricambi trovati durante le esplorazioni o vinti nelle sfide quotidiane ok comprare una si ma stavo leggendo ma l'hai portato via e che cazzo va bene allora qua ah ok qui sono praticamente gli slot per acquistare le auto ok e invece qui abbiamo la nostra ehm il nostro giocattolo allora personalizzazione e aspetto ok allora va bene questi cofano praticamente ancora non li ho sbloccati vabbè allora vediamo un po' il cofano attualmente equipaggiato ok ok altezza veicolo mi direi di metterla un po' più basso ok così eccola un po' più bassina cambia cambia cerchione colorazione mh ok allora vediamo un po' questi praticamente sono uguali scusate compriamo questo ok così a meno un po' ok ma le prestazioni dell'auto come aha personalizzazione delle performance performance per i cambi ok allora iniziamo con filtro dell'aria attualmente equipaggiato vediamo un po' di calore poi sistema di raffreddamento ok poi collettore sbloccami tramite le emissioni di ok non abbiamo ancora sbloccato sistema di alimentazione anche questo ancora non lo possiamo fare induzione forzata non ci abbiamo non ci abbiamo la money impianto elettrico ok 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 cioè io inizio a spendere un po' di un po' di money nella customizzazione della vettura allora si ci da 9 cavalli ci piace blocco motore lo abbiamo abbastanza soli anche qua frizione l'abbiamo già ottenuto impianto di nitro fondi insufficiente sospensione anche questo qua dobbiamo farlo si ci mettiamo anche questo i pneumatici poi li cambiamo e i freni anche quindi bene tuning ok qua praticamente per regolare il tipo di guida ma io direi stili di guida non lo so facciamolo derapata facciamo una tacca di qua va così a meno abbiamo ok no è giusto per avere più aderenza che derapata poi ok ma il colore dell'auto cioè non posso cambiare il colore della macchina vabbè poi magari più avanti faremo ok spai 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 io dimmi la pula va bene raggiungiamo il nostro amico e ci facciamo questa gara così proviamo un po' l'auto vediamo se le modifiche che che abbiamo fatto ok no spera spera mappa chiudi che palle si ho capito so cos'è la mappa dai che cazzo minchia fino qua devo andare va bene percorso ok andiamo eh non rompere adesso sto impazzendo forse sono già pazza o sto per diventarlo scusa vaneggio devo uscire ci vediamo non accetto rifiuti ti conviene esserci stavo guardando da un'altra parca puzzana istitutoria del cazzo porca di quella puttana di nieva il mio orientamento fa cagare il cazzo va bene va bene ok aspettate un attimo che qua è un fottuto casino ma scusa non mi metti il segnalino dove devo andare andiamo a raggiungere la nostra prima gara allora la macchina sembra che si comporta un po' meglio di prima graficamente è uno spettacolo ragazzi allora io ci sto giocando ma scusate ma scusate ma non dovrei avere la striscia che mi dice no sto giocando praticamente a dettagli ultra in 4k anche se comunque facca puttana via 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 andiamo via andiamo via andiamo via ok colta quando hai pulito il tuo inseguimento non ti perdono le divise non ti perdono ok se ho capito ma che cazzo mi sto sclerando malissimo vabbè ah la gara ha sottribuito sto sclerando ti giuro ragazzi sto sclerando malissimo eh ho capito come cazzo madonna cioè devi andare proprio del punto giusto se no non te lo prende allora porta a termine una gara su più giri va bene chiudi invita a tutti inizia l'evento inizia l'evento inizia l'evento va bene corri la gara sul circuito con spike ok amico diamoci dentro preparati a una bella lezione hai detto che è facile eh madonna oh sti messaggi sono veramente una rottura di palle devo disattivare il tutorial ah ok ma scusate ma sono le 2-2-2 gara non c'è neanche partire diciamo insieme no va bene va bene andiamo a prendere spike si se non mi centro contro il muro però si lo so guardate che devo prenderci sulla mano eh poi pian piano ho capito ma quello va a bomba nel senso lo cazzo ah abbiamo già fatto due giri porca puttana e non lo so se riusciamo a prenderlo perché cioè due circuito che cazzo di circuito è comunque non è giusto perché quello è partito molto prima cioè non è che ci ha fatto partire insieme non è vera Sì, c'è in ballo parecchio Ma voglio fermarmi un po' Vedere che succede Sì, già, una pausa servirebbe Ehi, dov'è Robin? Tranquillo Spike, arriverà Cosa? No, io chiedevo solo, sai Da avere tutta la crioria unita è bello Era sul circuito, il cavallo giusto Il tuo segreto è al sicuro Va bene Ma che puttana, stavo leggendo Sì, va bene, però, cazzo Non potete farmi mettere queste cose qua Intanto che uno sta leggendo Cioè, siete dei bastardi, veramente Cioè, uno sta leggendo, no? Vecca troia Allora Questa cos'è? Gare sul circuito Bah Qua cos'è? Il diner Andiamo al diner Teletrasporto Ah, teletrasportiamoci perché Abbiamo sprecato già un po' di tempo Così vediamo un attimino Cosa cazzo Doviamo fare al diner Al fine adesso stiamo subendo di brutto Dai, non rompere, cazzo, guarda, ti chiamano Ho distrutto un po' l'auto, ma va bene Stesso posto Ehi Forza, imitami una mano Io un po' lo amo e un po' l'odio Cioè, mi fa star male sentire che rimbalza sull'imitatore Ma Ma Mi emoziono anche Quando la faccio scivolare al punto perfetto Ok, me ne vado Vieni con me Sì, ok Pace Pace A dopo Bella Siediti, amico Posso? Oh Una Monster Lui odia la derapata per una semplice ragione Non ne è capace Oh Ci vuole una certa raffinatezza Che farla scivolare e sgommare alla grande Devi portarla fino al punto critico Ho ragione oppure no? Non sbagli mai Beh, è così Devi avercelo nel sangue, chiaro? Oh Lo vedi? La nostra Robin Lei ha classe Ha la mano ferma Spy Lui invece strattonerebbe il freno a mano come un teenager neopatentato Ma dai Manu Non è così male È un bene che suo padre abbia qualche soldo in tasca Ecco quello che penso Ok Abbiamo parlato troppo Vado fuori E da quando questo è un problema? Beh, è un problema quando stiamo qui a chiacchierare Invece che fuori a guidare Giusto Ascolta Sto mettendo insieme qualcosa Sì Niente di concreto per ora Ma Se sei stanco di zen E vuoi un po' di caos rumoroso Ok Ti farò sapere A dopo Bello Sempre una curva avanti la ragazza Sì Quando c'è lei le cose succedono e basta Ad ogni modo Ti consiglio vivamente di provare a sgommare Avventura Bay Sì Ti chiamo ok Ti metto in contatto con la scena locale Va bene Vediamo che vuole questo Ok Vediamoci lì È una parola Adesso Ragazzi io vi saluto E ci vediamo ai prossimi gameplay di Nithosby Bella